La sua saluta è stupenda Sì, grida Ciao, chi è la blu, che è ammero rosso? No, vi prego, grazie No, no, aspetta un attimo, sì, grida Sì, grida No, volevo sapere se devo parlare con la tua PR No, devo parlare con la tua PR, no? Anche perché non ce l'ho Ah, non ce l'hai? Allora possiamo parlare Ma sei la più amata dei blog